Stupefacenti nel Medioevo, iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. L'oppio ha svolto un ruolo cruciale nella farmacopea della rinomata scuola medica araba, dove si condussero approfondite osservazioni e indagini sistematiche sui suoi effetti. È noto che il filosofo e medico Avicenna, 980-1036, il cui decesso è stato presumibilmente causato da un'overdose di oppio nel suo canone, riuscì finalmente a illuminare anche sugli aspetti dannosi sia psicologici che fisici derivanti dall'uso di questa sostanza, descrivendo per la prima volta il fenomeno della dipendenza. Questo sapere arabo permeò la medicina occidentale, contribuendo alla sua rinascita e al riscoperto dell'uso dell'oppio. Nella scuola medica di Salerno, dove si fusero le tradizioni della medicina greco-romana con nuovi insegnamenti, veniva valorizzato l'effetto anestetico di una spugna imbevuta di oppio, giuggiole, mandragora e canapa. Alla fine del Medioevo, con la diffusione di rituali magici e pratiche collettive, l'uso di miscele vegetali con proprietà psicotrope divenne comune. Queste miscele, denominate unguenti delle streghe, venivano utilizzate per partecipare ai sabba e indurre uno stato di totale anestesia, accompagnato da deliri tossici ed allucinazioni. L'oppio era un ingrediente fondamentale in queste droghe, insieme ad altre sostanze stupefacenti e psichedeliche come la canapa, la mandragora e la bella donna. Nel XVI secolo, durante la crudele persecuzione delle streghe orchestrata dall'Inquisizione, alcuni medici ed umanisti come Andrés Fernández de Laguna, Gerolamo Cardano e Giambattista della Porta, attribuirono i fenomeni allucinatori e malefici della stregoneria all'azione dell'oppio e di altre sostanze psicoattive. La comprensione dell'oppio servì a rationalizzare le pratiche e le tradizioni magiche, contribuendo a sfatare superstizioni e pregiudizi nei confronti delle malattie mentali. Nello stesso periodo, gli alchimisti assumevano oppio per stimolare la creatività e l'immaginazione necessarie alla ricerca della grande opera, come la pietra filosofale e l'acqua di giovinezza. Persino Paracelso, famoso alchimista, attribuiva i suoi successi a un preparato a base di oppio il laudano da lui stesso elaborato a partire da una ricetta del medico veronese Fracastoro. Io possiedo un farmaco arcano che è superiore a ogni cosa mortale. Il XVI secolo segnò un'epoca di viaggi, esplorazioni e prime osservazioni antropologiche ed etnologiche. Nei resoconti di viaggio, l'uso dell'oppio terre-à, i popoli orientali, in particolare i turchi, era un tema comune. Il naturalista francese Bélon, nel 1546, osservava che ogni turco spende il suo ultimo soldo per acquistare oppio, che porta con sé in tempo di pace e di guerra. Credevano che questo li rendesse più coraggiosi e meno temerosi durante i conflitti. Durante la guerra, l'oppio diventava così richiesto che a volte diventava difficile trovarne in tutto il paese. Anche il medico e naturalista tedesco Leonhard Rauwolf, nel 1573, descriveva il bazar di Aleppo come un luogo dove si trovava comunemente l'oppio, noto localmente come Ophiun. Questo era consumato non solo durante i conflitti per dare coraggio e sopprimere la paura della morte, ma anche in tempi di pace per alleviare l'ansia e le cattive fantasie. Tra il XVI e il XVII secolo, l'oppio divenne un elemento consolidato nell'immaginario europeo, tanto che nella letteratura inglese fungeva da motivo narrativo e simbolico. Era usato per analizzare e descrivere le lotte umane contro la tristezza, il dolore e i ricordi angoscianti, nonché per sviluppare trame di intrighi e macchinazioni illecite. In opere come Il mercante di Malta di Marlowe e Otello di Shakespeare, l'oppio era descritto come un sedativo universale, mentre Milton ricordava il farmaconepentes, utilizzato da Elena nell'Odissea. Thomas Seidenham, uno dei principali medici inglesi del XVII secolo, esprimeva gratitudine per l'oppio e le sue derivazioni. considerando le rimedi efficaci per numerose malattie. Uno dei suoi allievi, Thomas Dover, creò una polvere contro la gotta a base di oppio, liquirizia, salnitro e ipecaquana, nota come polvere di Dover. Questo medicinale divenne estremamente popolare e veniva assunto sciolto in latte caldo con vino bianco prima di coricarsi, garantendo un sollievo rapido e efficace dal dolore. In conclusione, il XVI e il XVII secolo segnarono un'epoca di trasformazione culturale e scientifica in cui l'oppio emerge come protagonista in una varietà di contesti e discorsi. Attraverso i resoconti di viaggiatori e naturalisti come Belon e Rawwolf, l'uso dell'oppio tra i popoli orientali, in particolare i turchi, venne descritto con fascino e meraviglia, evidenziando le sue molteplici funzioni sia in tempo di pace che in guerra. Nella letteratura e nell'arte dell'epoca, l'oppio divenne un motivo narrativo potente, simboleggiando non solo il sollievo dal dolore fisico, ma anche la fuga dalla sofferenza emotiva e la sospensione della realtà. Opere come Il mercante di Malta di Marlowe e Otello di Shakespeare offrivano ritratti vividi degli effetti psicologici e sociali dell'oppio, alimentando l'immaginazione collettiva e contribuendo alla costruzione di un'identità culturale condivisa. Dal punto di vista medico, l'oppio e le sue derivazioni suscitavano un interesse crescente tra i professionisti della salute, che vedevano in esse un potenziale rimedio per una vasta gamma di afflizioni. Thomas Seidenham e altri medici del tempo lodavano le virtù terapeutiche dell'oppio e sviluppavano nuove formulazioni farmacologiche, come la polvere di Dover, destinata a diventare uno dei trattamenti più diffusi del XVII secolo. In questo contesto di esplorazione e scoperta, l'oppio divenne un simbolo complesso e contraddittorio, riflesso delle ambiguità e delle contraddizioni della società del tempo. La sua storia rappresenta un capitolo importante nella comprensione dell'interazione tra cultura, scienza e potere nel Rinascimento e nel Barocco, continuando a suscitare riflessioni e dibattiti ancora oggi. La storia dell'oppio nei secoli XVI e XVII, CI, offre una riflessione profonda sull'interconnessione tra cultura, scienza e società. E CI invita a considerare le molteplici sfaccettature delle sostanze psicoattive e il loro impatto su di noi. Questo capitolo della storia umana ci insegna che le sostanze come l'oppio non possono essere comprese semplicemente in termini di bene o male, ma piuttosto come fenomeni complessi che richiedono una valutazione attenta e multidimensionale. Da un lato, vediamo che l'oppio ha svolto un ruolo significativo nel trattamento del dolore e di altre condizioni mediche, offrendo sollievo e conforto a coloro che ne hanno sofferto. Le scoperte e le formulazioni farmacologiche sviluppate da medici come Thomas Seidenham hanno dimostrato il potenziale terapeutico di questa sostanza, contribuendo così al progresso della medicina dell'epoca. Dall'altro lato, però, osserviamo anche gigli effetti negativi dell'oppio sull'individuo e sulla società. L'abuso e la dipendenza da questa sostanza hanno portato a gravi conseguenze per la salute fisica e mentale di coloro che ne facevano uso e hanno alimentato problemi sociali come la criminalità e l'instabilità. Questa complessità ci spinge a adottare un approccio più completo e umanistico alla questione delle sostanze psicoattive. Dobbiamo riconoscere che le droghe non sono semplicemente un problema da eliminare, ma piuttosto una realtà complessa da affrontare con empatia, comprensione e un approccio basato sulla scienza e sulla salute pubblica. Inoltre, la storia dell'oppio CI ricorda l'importanza di considerare il contesto storico, culturale e sociale in cui le sostanze vengono consumate e regolamentate. Le politiche e le leggi riguardanti le droghe dovrebbero essere informate da una comprensione approfondita di queste dinamiche e mirare a bilanciare la protezione della salute pubblica con il rispetto dei diritti individuali e delle libertà personali. In definitiva, la storia dell'oppio CI invita a una riflessione più ampia sulle sostanze psicoattive e sulle società che le consumano, incoraggiandoci a esplorare nuovi approcci e soluzioni che tengano conto della complessità e della diversità di esperienze e prospettive umane. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Scriviti al canale Storia Leggera